allora paolo roli l'ho citato nei video precedenti perché è un nome che oggigiorno è misconosciuto cioè a meno che appunto uno non stia a leggersi le antologie diciamo peraltro piuttosto datate come ad esempio possono essere questa che risale al 1968 non è un autore citato conosciuto famoso viene diciamo iscritto nel movimento culturale dell'arcadia comunque a poesia settecentesca italiana insieme comunque ad altri autori e secondo me andrebbe anche riscoperto perché non in tutto quello che ha scritto però comunque c'è qualche qualche sua canzonetta qualche sua opera che riletta oggi magari appunto facendo anche un confronto con quello che poi è venuto dopo potrebbe effettivamente essere essere interessante perché ci permette comunque di fare questi collegamenti tra autori e anche di ragionare su questo discorso di atmosfere poi di atmosfere poetiche ma comunque tinte quasi gotiche comunque molto molto malinconiche che secondo me il paolo rolli comunque ecco diciamo ha trattato nel nelle nelle sue opere allora sull'arcadia io ho già fatto uscire in realtà un commento trascritto non sto adesso qui a recitarvelo perché in realtà per chi volesse appunto sapere perché è nato come movimento gli autori che ne facevano parte via dicendo sotto trova già il link se se lo legge così direi appunto di leggervi però direttamente l'opera che mi interessa di paolo rolli così appunto veniamo direttamente al punto della faccenda vi dico solo questo però tenete presente che lo stesso paolo rolli comunque conosceva ovviamente gli autori esteri e di fatti delle 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 citazioni comunque dei collegamenti che si possono fare lo possiamo tirare fuori comunque dei nomi anche relativi ad omero e a milton che erano degli autori che comunque in questo periodo storico qui in italia i letterati conoscevano si potrebbe cercare citare anche il caso di melchiorro cesarotti parlando ad esempio di milton o anche come dicevo in un altro video per dire l'influenza di james mcpherson dei canti di ossiano su alcuni poeti che vengono comunque giudicati minore ormai sono dimenticati sempre di questo periodo storico relativo al settecento italiano tra l'altro nei video di fosco lo citavo anche pindemonte e anche pindemonte peraltro rappresenta è introdotto su cioè stato ospitato su questa antologia se ricordo bene ecco infatti si potrei potrei appunto oltre a paolo rolli tenete presente che altri nomi che hanno comunque avuto queste atmosfere a confine con questo gotico anche se all'epoca ovviamente non si chiamava ancora così ricordatevi alfonso varano melchiorro cesarotti l'abbiamo già citato anche perché poi melchiorro cesarotti è stato comunque il traduttore delle poesie di ossian e anche di thomas gray e dell'eggia sopra il cimitero di campagna quindi melchiorro cesarotti era proprio uno di quegli italiani dell'epoca che aveva ben presente tutte queste atmosfere proto gotiche cimiteriali che si stavano sviluppando in inghilterra tanto più che appunto lui le traduceva quindi e poi il verri è l'alessandro verri citiamo anche il bertola che comunque ha scritto questo questa poesia con questo questo con questi riferimenti alla notte quindi poi potremmo addirittura fare un paragone per dire tra foscolo e bertola e poi l'ippolito pindemonte che appunto ha citato le poesie campestriche io avevo già forse trattato in un video perché il palito pindemonte l'ho letto l'ho letto in un video insieme a questi autori che vi ho citato parecchio tempo fa sotto ve lo metto comunque tenetelo presente come nome perché anche pindemonte con queste poesie campestri pur comunque non arrivando a una vera e propria poesia cimiteriale comunque si potrebbero fare dei paragoni per dire tra lui e almeno un autore come thomas gray non fosse altro comunque per lo scema per lo scenario bucolico che comunque lo diciamo sempre per diciamo per per una sorta di di orgoglio il riferimento alla nostra letteratura già torquato tasso quindi parliamo del 1500 aveva comunque scritto nella nella minta aveva comunque descritto queste atmosfere bucoliche campestri anche a tinte malinconiche quindi per quanto non è che si possa far risalire la minta di torquato tasso e a me piace parecchio anche come opera però non è che la si possa iscrivere nel romanzo gotico propriamente detto comunque nella poesia cimiteriale propriamente detta però secondo me ci si può anche la si può anche comunque citare per lo meno da un punto di vista di ispirazione perché comunque parlando di poesie campestri c'era già stato il precedente del tasso di torquato tasso e questa è una cosa che secondo me ripeto da italiani dovremmo darne fieri che poi la maggior parte degli italiani del 2023 se gli chiedi chi è stato torquato tasso non sanno neanche risponderti perché vabbè vanno dietro a tutt'altro genere di di argomento che conoscete anche voi influencer e roba varia quindi vabbè purtroppo è la degenerazione della nostra epoca però a mio modesto parere secondo me dovremmo andare solamente orgogliosi eppure in maniera stratosferica pensando alla nostra letteratura del passato allora di paolo rolli vi leggerò la canzonetta si chiama proprio così diciamo è stata soprannominata proprio così solitario boscombroso perché a dispetto del termine magari un po che potrebbe appunto sembrare un po dispregiativo canzonetta in realtà questo questa composizione ha uno sfondo molto malinconico e come dicevo quasi protogotico comunque lo capirete meglio quando ve lo leggerò allora i temi che si trovano nel si trovano comunque nelle composizioni di paolo rolli e in particolar modo in solitario boscombroso che secondo me è forse anche la migliore che ha scritto sono il tema dell'amore della morte quindi eros et anatos ecco facciamo anche una citazione citando appunto il cradle field la diciamo una canzone amore morte che è proprio una delle canzoni diciamo non forse la migliore però comunque una canzone dei cradle field quindi comunque chi ha un po quel background musicale ha già capito anche l'antifona tenete presente che come prototipo il paolo rolli comunque si è ispirato a petrarca quindi al chiare fresche dolci acque e potremmo comunque anche in generale dire che paolo rolli avesse comunque anche in mente altri autori medievali l'amor cortese e via dicendo quindi petrarca è giusto solo primo nome che si può fare ma ovviamente rispetto a petrarca o comunque rispetto ad altri autori dell'amor cortese del dolce stil novo ci aggiunge appunto quel tocco un pochino più malinconico che appunto rende secondo me questa composizione particolarmente interessante anche se proprio quella volessimo mettere un po a confronto con per dire magari delle delle poesie come citavo prima delle sorelle bronte che comunque hanno sempre questi scenari campestri selvatici solitario boscombroso a te viene afflitto core per trovare qualche riposo fra i silenzi in questo horror ogni oggetto che altrui piace per me lieto più non è ho perduta la mia pace sono io stesso in odio a me qua c'è già anche quasi uno qualcosa che è quasi proto alfieriano perché avevamo appunto visto nei video dedicati ad alfieri che anche alfieri aveva scritto questa poesia dedicata a una sorta di misantropia di odio per il suo secolo dove il poeta l'alfieri trovava ristoro riposo solamente nei boschi oscuri quindi appunto anche qui paolo rolli vabbè precede ovviamente l'alfieri però come vedete sono tutti elementi come se fosse un unico filo continuo che lega praticamente tutti questi autori allora la mia file file un nome diciamo un vezzeggiativo con cui molti poeti dell'arcadia usavano come diminutivo per riferirsi a delle donne alla donna amato comunque anche una donna diciamo di fantasia perché nella poesia arcadica andava molto di moda grecizzare i nomi comunque usare dei latinismi o dei grecesmi per riferirsi alla donna amata quindi veniva appunto venivano appunto usati dei nomi greci o comunque classicheggianti il mio bel foco dito piante forse qui quindi il poeta appunto sta invocando le piante del bosco del solitario bosco ombroso sta praticamente chiedendo a queste piante se hanno visto la sua donna amata la sua file ai la cerco in ogni loco e pur so che è la partì quante volte offron degrate la vostra ombra ne coprì corso d'ore si beate quanto rapido fuggì dite almeno amiche fronde se il mio ben più rivedrò a che l'eco mi risponde mi par che dica no qui c'è addirittura poi un'allusione anche alla dea eco per dire sento un dolce mormorio un sospir forse sarà un sospir dell'idolo mio che mi dice tornerà a che suon del rio il rio e il fiume diciamo è una forma arcaica per alludere comunque a un ruscello a un fiume che frange tra quei sassi il fresco umore e non mormora ma piange per metà del mio dolore ma si torna vano e tardo il ritorno o dei sarà che pietoso il dolce sguardo sul mio cenere piangerà va bene allora questo era giusto per darvi anche fare una breve citazione anche per paolo rolli comunque un autore tenete presente che ha scritto anche canzoni dedicate all'autunno ad esempio per dire c'è una lunga composizione qui come vedete dedicate all'autunno comunque poi sotto vi metterò un approfondimento proprio sulla poesia dell'arcadia perché comunque avevo segnato anche altri autori va bene direi un po di avervi detto tutto quello che volevo dirvi su paolo rolli comunque un autore minore meno famoso ecco della nostra letteratura all'epoca comunque abbia un gran successo cioè questi comunque sono autori che all'epoca ebbero anche successo vi citerò anche come collegamento che si potrebbe fare anche se sono due autori diversi ricordatevi il metastasio e quindi poi sotto vi metto anche il metastasio perché comunque anche il metastasio che fa parte di più o meno di questo periodo è importante da citare come come autore dell'epoca che effettivamente poi il metastasio abbia anche un successo internazionale quindi ecco tenete presente che anche nelle legie scritte sempre dal dai poeti dell'arcadia noi troviamo appunto queste tematiche bucoliche campestri anche malinconiche che poi ho detto in realtà si potrebbe fare persino questo confronto tra queste legie campestri che erano tipiche comunque dei nostri poeti settecenteschi di questo periodo storico con le composizioni poetiche delle sorelle bronte che loro descrivevano la brughiera la brughiera in autunno la brughiera innevata anche i precipizi per dire le valli quindi sono sempre questa questo modo molto malinconico di introdurre di descrivere questi paesaggi dove effettivamente per le persone che hanno quel genere di personalità non proprio misantropa però comunque che molto spesso è soggetta la malinconia comunque piuttosto anche a una voglia un desiderio di evasione i paesaggi sono sono qualcosa di molto ecco la contemplazione dei paesaggi è qualcosa che comunque diverse persone che hanno questo tipo di indole sentono molto come bisogno esistenziale difatti non a caso molti appassionati per dire di black metal piuttosto che di symphonic black metal di gothic o di doom molto spesso passano veramente tanti ore del loro tempo libero in mezzo alla natura quindi non a caso perché si tende magari a prediligere o comunque sentirsi a proprio agio in contesti bucolici agresti campestri piuttosto che non in mezzo alle metropoli poi soprattutto alle metropoli dei nostri tempi dove lì i valori della nostra metropoli qual è che sono il black friday l'andare a comprare andare a spendere a spandere ostentare questi sono i valori del nostro tempo e quindi per persone che non hanno quel genere di attitudine lì diciamo che è più qualcosa di più desiderabile andare magari a vedere un bel bosco in autunno stare a contatto con la natura comunque dedicarsi a queste a queste meditazioni alla contemplazione dei paesaggi pensate anche ad esempio agli appassionati di alpinismo che non è semplicemente uno sport è anche un modo ad esempio molto spesso ci sono persone che lo vivono anche come se fosse una sorta di spiritualità perché si sentono proprio in connubio con le vette alpine quindi scalare una montagna vedere il paesaggio una volta arrivati in cima è qualcosa che addirittura rientra nella mistica quasi come se fosse una sorta di spiritualità di modo di porsi di fronte all'infinito poi vabbè se lo vogliamo chiamare dio lo vogliamo chiamare madre natura lì poi dipende ovviamente dalla sensibilità religiosa di ciascuno di noi però appunto è possibile nella contemplazione del paesaggio sentirsi quasi quasi trascesi ecotrascesi comunque da questa realtà che molto spesso è banale squallida va bene allora anche su paolo rolli direi di avervelo presentato in sintesi vi metto sotto gli approfondimenti vi metto sotto anche poi collegamenti con il pin de monte così potete anche andare a vedere un po le le leggi e campestre del pin de monte che ripeto pur comunque non essendo paragonabili a comunque dei veri e propri romanzi gotici però comunque hanno delle atmosfere che sono interessanti da leggere cose si amano comunque certi dettagli certi riverberi secondo me anche il pin de monte potrebbe essere un autore interessante ripeto non è non si sta parlando di un bram stalker però comunque a del ha comunque scritto delle cose interessanti che secondo me potrebbero piacere se uno comunque di base a mangiare questo tipo di atmosfere malinconiche va bene allora concludo qui spero che il video sia stato interessante ringrazio le persone che l'hanno ascoltato e vi saluto alla prossima analisi